Allora, quello che vi sto per dire potrebbe essere un po' cringe per alcuni di voi. Vi spiego, allora, sarei dovuta venire qui con la mia migliore amica, però mi ha gostata. Io credo sia uscita con Crash, cioè nulla contro di loro, io li scippo da un sacco di tempo, davvero. Però, allora, lei mi aveva detto di non dire a nessuno. Io ho fatto la snitch con una nostra amica, credo che la situazione l'abbia un po' triggerata e quindi niente. Vabbè, sono venuta con i miei genitori. Hey, boomer! Ride! No, perché poi quando si dice la parola boomer sono i boomer che ridono perché è l'unica che capiscono. Quando la dicono però li rende ancora più boomer. Vabbè, ve l'avevo detto che sarebbe stato cringe. Cringe, per chi non lo sapesse vuol dire imbarazzante. Ma non solo perché cringe, boomer, crash, snitchare, shippare, ma anche triggerare, gostare, smash, droppare, flopare, flexare. Queste sono tutte delle parole che ormai sono entrate a far parte dell'uso colloquiale del linguaggio della generazione Z. Sono parole che potrebbero far sorridere, fanno sorridere, ma che a volte nascondono dei significati inaspettati. Io mi occupo di comunicazione e nel mio lavoro accompagno aziende e brand a, insomma, costruire strategie digitali per intercettare un determinato target, che è esattamente la generazione Z, che molti di voi sapranno essere la generazione nata fra il 1997 e il 2012. È la generazione più numerosa di sempre e nei prossimi dieci anni 1,3 miliardi della sua popolazione e dei suoi membri entreranno a far parte del mondo del lavoro. Io non faccio parte della generazione Z, di poco, perché ho 29 anni e sono una millennial. Nel mio lavoro però passo tanto tempo online e passo tanto tempo a stretto contatto con giovanissimi creator, influencer che hanno milioni di follower e in questi sei anni da quando ho aperto la mia agenzia, stare così a contatto con loro mi ha permesso di scoprire e vedere tanti aspetti che molto spesso vengono visti in modo un po' superficiale. Si dice della Gen Z che hanno una soglia d'attenzione di 8 secondi, brevissima, ma non si dice che questo aspetto aiuta, gli aiuta ad avere un linguaggio più efficace di impatto e che gli aiuta a filtrare meglio le informazioni. Si dice della Gen Z, fra le tantissime cose che si dicono, che sanno fare cose contemporaneamente, in multicast, no? Hanno più dispositivi, televisione, telefono. Non si dice però che questo aspetto, vero, li rende più esposti a burnout e stress. Si dice della Gen Z che non amano incontrarsi dal vivo, no? Sempre online. Ma non si dice in realtà che questo non è vero, perché preferiscono incontrarsi dal vivo e sono assolutamente in grado di intrattenere delle conversazioni con le generazioni più adulte. E considerato che molti di loro sono già adulti, in generale con le generazioni più adulte e più anziane di loro. Si dice della Gen Z che stanno sempre online, magari su TikTok a fare dei balletti, no? Ma non si dice che in realtà senz'altro si divertono, ma tanto del tempo che trascorrono sui social lo usano per informarsi e per prendere appunto informazioni su argomenti che gli interessano o che gli stanno a cuore. Ma d'altronde si dicono tante cose, ma è sempre stato così, no? Sta alle generazioni più anziane categorizzare e giudicare quelle più giovani. Noi millennial siamo stati demonizzati come mammoni narcisisti. Mi ricordo il New York Times che titolava hanno i soldi per mangiare l'avocado toast, ma non hanno i soldi per comprarsi una casa. È così, nel senso, insomma, da un punto di vista lo capisco, cioè in sociologia serve identificare dei tratti comuni che accomunano una generazione in base a come le condizioni economiche e sociali poi effettivamente hanno un impatto sulle loro vite. Però non capisco questa tendenza, diciamo così superficiale, di prendere un dato e di pensare che, insomma, sia l'unico modo di vedere una generazione in modo così superficiale, quando basterebbe veramente poco, no? Oggi siamo qui a parlare di parole, di linguaggio. Basterebbe a volte partire proprio dalla parola per vedere in che modo effettivamente possa dirci qualcosa di chi stiamo parlando. Mi ricordo che quando avevo 13-14 anni ho iniziato, insomma, a troncare le parole, ad accorciarle, a scrivere TVB, TVONKDB per S, TVMDB per S, XOXO, poi gli Elio e le storie tese ci hanno fatto anche una canzone. Ma in realtà io ho iniziato a farlo perché gli SMS avevano un numero di caratteri limitati e quindi, cioè, per non spendere soldi, siamo stati costretti un po' a troncarle. Oggi il contesto ci dice qualcosa di completamente diverso. I social network ci permettono di ricevere e di vedere contenuti che arrivano da tutto il mondo e questo spiega come tante delle parole, alcune che vi ho, insomma, introdotto prima, sono proprio prese in pressio dall'inglese, italianizzate, tipo cringiarsi, io mi cringio, tu ti cringe, cioè ci sono proprio declinazioni, perché spesso queste parole partono da, insomma, trend che nascono su TikTok piuttosto che video che vanno in trend su YouTube, su Twitch, nelle live. Un altro dato molto interessante del contesto e di come, insomma, le parole si debbano adattare a quello che accade è che online effettivamente si può parlare di tutto e nel corso del tempo le piattaforme hanno iniziato a perfezionare e modellare dei modelli algoritmici che bannano, limitano le parole che noi usiamo e questo ha avuto un impatto senza precedenti sulle parole che scegliamo. La generazione Z ha iniziato a creare un vocabolario alternativo per poter parlare delle stesse cose senza farne riferimento diretto. Quando è esplosa la pandemia globale, Meta e altre piattaforme hanno limitato tante parole che potevano, insomma, fare un espresso riferimento alla pandemia per evitare, insomma, che si diffondessero fake news, informazioni false. Ma nel giro di pochissimo tempo si è iniziato a parlare degli stessi argomenti utilizzando le parole Panini, Panda Express e Backstreet Boys Reunion Tour. Se cercate ci sono delle conversazioni abbastanza accese su come questo Backstreet Boys Reunion Tour si possa trasmettere tramite Wi-Fi e non si sta parlando del concerto. Potrei continuare a farvi esempi. Dieci anni fa Meta ha bannato un elenco di oltre 70 hashtag che facevano riferimento e portavano a community in cui i disturbi alimentari vengono promossi come stile di vita. Thinspiration, Thinspo, Proana, ci sono dai tempi di Netlog, insomma, non è cosa nuova. Bannando queste parole nel giro di poco sono stati creati hashtag, spesso molto simili, spesso cambiando soltanto lettere e le ricerche hanno dimostrato che questo ha fatto nascere oltre 200 vocaboli alternativi, aumentando del 30% le ricerche e quindi le ricerche e l'utilizzo di questo tipo di community. In America la parola suicidio si dice sui social unalive. Rape, stupro, si dice grape, come uva. Per parlare del frutto ora si dice il piccolo frutto rotondo e verde perché hanno bannato anche la parola alternativa. È come se l'elenco di parole bannandole facesse veramente qualcosa, è come se le parole fossero il problema stesso. La parola lesbian in americano inizialmente, anzi molto spesso come accade, viene sostituita utilizzando dei simboli, quindi la S è sostituita con la S di dollaro. Ora è molto comune trovare conversazioni, purtroppo spesso omofobe, utilizzando il termine le dollar bin. Le dollar bin. Ma non fa riflettere come essere costretti a censurare il linguaggio, a utilizzare un giro di parole per dire una parola. Non possa addirittura creare uno stigma ulteriore attorno a un determinato concetto. Su TikTok è esploso da poco un trend. Il trend è mascara, mascara trend. Ho riportato il testo, non l'immagine, del POV. Immaginatevi, insomma, sono tantissimi, sono più di 200 milioni i video con questo hashtag, di una ragazza con questo testo di fronte e una musica di sottofondo. Questo è il POV. Mio cugino mi ha costretta a mettere il mascara quando avevo 12 anni. Non sapevo nemmeno cosa fosse il make-up a quel tempo. Ora che ho 23 anni sono finalmente libera di decidere se metterlo. Sto aspettando di trovare il giusto mascara per me e fino a che non lo trovo sto imparando a usare le mie ciglia naturali. Andrà meglio, lo prometto. Avete capito che non si sta parlando del trucco, no? Attorno a questo hashtag donne che hanno subito violenze, raccontano la propria storia e lo fanno con l'hashtag anche per poter raggiungere internazionalmente, perché poi TikTok ti permette di andare veramente ovunque, e raccontare così la loro storia. Noi abbiamo principalmente due strade e due scenari diversi. Il primo sicuramente è molto rassicurante, no? È semplice. È decidere di vedere quello che vogliamo vedere e di continuare a sentire quello che ci fanno sentire. Di continuare a pensare che il mascara può essere soltanto un mascara, o che su TikTok si fanno solo balletti. Oppure c'è un'altra strada che bisogna rimboccarsi le maniche, perché ci vuole tanto studio, come in ogni linguaggio. Bisogna aver la voglia, in questo caso, anche di andare oltre a quello che vediamo, oltre a quello che vogliamo vedere. Bisogna chiedersi ogni volta se c'è altro. E io vi dico una cosa, che sì, c'è molto altro. Grazie.